Bene, continuiamo a trattare la nostra trattazione della gravitazione universale e oggi vediamo l'importanza dell'energia in relazione, ovvio che ho messo l'orbita dei pianeti, in realtà alle orbite di qualsiasi corpo celeste nel nostro sistema solare. Iniziamo con un caso piuttosto semplice, il caso di orbita circolare. C'è quello che avviene a raggio postante, immaginiamo qui di avere il sole, qui c'è la terra per esempio, questo è il raggio dell'orbita terrestre e abbiamo visto che l'energia potenziale U legata a questo sistema, cioè l'energia potenziale associata al fatto che sulla terra agisce la forza conservativa, che è la forza di gravitazione universale, è esprimibile come meno la costante di gravitazione universale G maiuscolo per la massa del sole per la massa della terra diviso l'orbita, il raggio dell'orbita. In questo caso avremo appunto una grandezza negativa, che è quella dell'energia potenziale e siccome la terra è in moto, fatemi disegnare anche il vettore velocità, eccolo qui, il vettore V, ci sarà anche un'energia cinetica legata al fatto che la terra si muove, quindi un mezzo della massa della terra per la velocità della terra al quadrato. E quindi l'energia totale sarà la somma dell'energia cinetica più l'energia potenziale e quindi un mezzo della massa della terra per la velocità al quadrato meno G per il prodotto delle masse diviso il raggio dell'orbita. Ok, ma abbiamo anche visto in una delle precedenti lezioni che possiamo mettere in relazione la velocità orbitale della terra con la sua distanza dal centro. Perché il raggio dell'orbita non è un raggio qualsiasi, dipende dall'intensità con cui la terra viene attratta al sole, perché solo è quella la forza che fa ruotare la terra su un'orbita circolare, o almeno approssimativamente circolare. Quindi la distanza del pianeta dal sole dipende dall'equilibrio tra la forza, del valore della forza centripeta e del valore che deve eguagliare quello della forza gravitazionale. Quindi in realtà l'azione che il sole compie e svolge sulla terra, che quindi vale in termini di intensità G, massa dei due corpi celesti, massa della terra, massa del sole, raggio dell'orbita al quadrato, deve valere quanto la massa della terra per la velocità della terra al quadrato diviso il raggio dell'orbita. Anche qui la massa, questa è una relazione che abbiamo visto ormai moltissime volte, la massa della terra è semplificabile, è semplificabile il raggio, e quindi abbiamo che la velocità con cui la terra, in realtà qualsiasi pianeta gira attorno al sole, è la radice quadrata di G volte la massa del sole diviso il raggio della sua orbita, se l'orbita è circolare. Ok, quindi se R vale il raggio medio dell'orbita terrestre, inserendo questa espressione nell'energia totale, abbiamo il valore dell'energia genetica espresso in funzione della distanza del sole. Quindi adesso lo facciamo, per cui l'energia totale del sistema terra-sole vale un mezzo, massa della terra per questa B al quadrato, quindi la radice di G, massa del sole su R, per tutta la seconda, meno di nuovo G, il prodotto delle due masse, diviso ancora R. Qui il quadrato semplicemente toglie la radice, e quindi abbiamo, mt per G, massa del sole su R, meno di nuovo G, massa della terra, massa del sole, diviso R. Se osservate i due termini sono identici, a parte il fattore un mezzo. Scriviamoli un poco meglio. mt ms su R, meno G, quindi qui ms su R. Quindi qui ho la metà di questa grandezza, meno l'intera grandezza, quindi mezza torta, meno l'intera torta, fa meno un mezzo G, mt ms su R. E osservate il segno negativo che sta davanti, quindi l'energia totale è negativa. che vale, se osservate bene, come intensità, la metà dell'energia potenziale, che invece è G, mt ms su R. D'accordo? Questa è l'energia totale di un sistema che, come nel nostro caso, sovrasemplificato se volete, è una figura, una stella centrale, come il nostro sole, e è un pianeta che gira in un'orbita circolare attorno alla terra, attorno al sole, scusate. Oppure, equivalentemente, se vogliamo considerare l'orbita di un satellite attorno alla terra, la cosa non cambia, solo che in quel caso l'energia totale del satellite nell'orbita attorno alla terra sarà, al posto della massa del sole, ci sarà quella della terra, al posto di quella della terra, quella del satellite, e qui, al posto di R, c'è l'area di raggio dell'orbita del satellite attorno al centro della terra. Questo vale, ripeto, se le orbite sono di tipo circolare, ma in generale, in generale, le orbite non sono circolari, per cui, diversamente dall'orbita circolare, la distanza tra il pianeta e il sole non è costante. Abbiamo già visto questo quando abbiamo esaminato la prima legge di Keplero. Quindi, se qui abbiamo il sole, l'orbita del nostro pianeta, in generale, fatemi disegnare con il verde, ecco, è un'elisse e la distanza tra il pianeta e il sole ha una velocità questo R che non è sempre perpendicolare al raggio stesso. Ok, questa è V. Quindi R varia, per cui la velocità ha una componente, disegniamola un poco meglio, è comunque perpendicolare alla traiettoria, quindi ecco, questo è un po' come questa è V. tangente al tracciato dell'elisse. Quindi, ripeto, la velocità del pianeta, in generale, avrà due componenti, una parallela al raggio e una perpendicolare a R. Ok, questa è quella l'unica presente nel caso di moto circolare, quindi le due componenti sono perpendicolari l'una all'altra, questa è legata alla variazione della distanza rispetto al sole nel tempo, questa invece è legata alla rotazione, quindi sarà del tipo omega per R. quella che è presente nel moto circolare. Ora, quindi, se prendiamo in considerazione un punto qualsiasi nell'orbita, se questo è punto P, qui avremo la velocità, ecco, disegniamola così, e avrà due componenti, una, sponiamo questa, sia quella parallele dal raggio, utilizzata di nuovo, ecco, e una perpendicolare al raggio. Quindi, il quadrato della velocità sarà dato termo di Pitagora dal quadrato della componente parallela della velocità al raggio più omega quadro R quadro, questo è di perpendicolare. ok? Quindi, qui però abbiamo una grandezza in più, abbiamo introdotto anche questo omega, che ovviamente cambia nel corso della rotazione, come abbiamo visto la volta scorsa, in conseguenza della seconda legge di Teplero. però ci aiuta il fatto che in generale si mantiene costante quella grandezza L che abbiamo visto essere il momento angolare, che è dato da la massa, che è un vettore, massa per il prodotto vettoriale R e V e abbiamo visto che è anche esprimibile come M R V senalfa, l'intensità del vettore L e V senalfa, abbiamo visto che la componente di V perpendicolare al raggio, cioè la nostra omega R. Ho scritto tutto R maiuscolo prima maiuscolo prossimo maiuscolo uniformità quindi se questo è un vettore costante significa che nel corso dell'orbita del moto omega ed R sono inversamente proporzionali quindi possiamo esprimere la velocità angolare in funzione della distanza dal sole come il rapporto tra L intensità del momento angolare diviso M ed R qui c'è un R quadro R per R per R alla seconda quindi M R omega R per R quadro quindi omega va come 1 su R alla seconda ok di conseguenza la la l'energia totale quindi quando calcoliamo l'energia cinetica totale quindi dovuta alla componente della velocità parallela al raggio quella perpendicolare avremo un mezzo della massa della terra parliamo della terra che è più semplice per V alla seconda quindi un mezzo massa della terra per la componente parallela al quadrato più quella perpendicolare alla distanza terra sole al quadrato e qui qui avremo come la seconda R la seconda dato che è il quadrato della velocità quindi possiamo scrivere la energia cinetica in questo modo un mezzo massa della terra velocità componente di questa parallela parallela al raggio al quadrato più un mezzo mt omega quadro r quadro adesso possiamo sfruttare questa caratteristica il fatto che la 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 decresce come R la seconda uno su R la seconda quindi sostituiamo in questa espressione e abbiamo un mezzo mt v parallelo alla seconda più un mezzo mt al posto al posto di omega quadro possiamo mettere l fratto m r quadro al quadrato ancora per r alla seconda quindi ho un mezzo mt qui la seconda più un mezzo mt l quadro questa m piccola è la massa della terra attenzione per quanto riguarda la terra quindi abbiamo la seconda massima della terra al quadrato raggio alla quarta r quadro qui possiamo semplificare qui rimane un 2 qui va via tutto per cui abbiamo quanto segue massa della mt di parallelo quadro più un mezzo anche la massa semplificabile e viene la seconda mt fratto r alla seconda ok inseriamo questo nel calcolo dell'energia totale e avremo un mezzo mt v parallelo quindi la componente radiale dell'energia cinetica che è questa più la componente tangenziale che è questa e ancora meno g massa della terra massa del sole diviso il raggio dell'orbita ora questa parte dove non appare la velocità ma solo la distanza della terra dal sole prende il nome di energia potenziale efficace ed è una funzione solo della distanza terra sole mentre questa è l'energia cinetica radiale ok se immaginate di fare un grafico di questa grandezza prendiamo un'asse verticale che rappresenta l'energia uno orizzontale che rappresenta la distanza dal centro quindi il nostro r allora il grafico del potenziale efficace sarà composto da una parte positiva legata al momento angolare che decresce come r la seconda e una parte negativa legata all'energia potenziale gravitazionale che decresce come uno su r ora se facciamo il grafico a breve impareremo come fare il grafico di funzione di questo tipo otteniamo che quando r è molto piccolo è più importante più grande la parte positiva quindi la funzione ha questo tipo di andamento diventa molto grande poi avrà un minimo e man mano che andiamo verso distanze molto grandi cresce fino che non si avvicina a zero in questo modo ok questa è la parte fatta nel ridisegnare perché qui ecco qui c'è un valore di questo tipo quindi cosa succede se immaginiamo di trovarci in una situazione in cui abbiamo un pianeta con una determinata energia totale che riportiamo sull'asse verticale abbiamo praticamente tre situazioni possibili immaginiamo che l'energia totale primo caso l'energia totale del nostro pianeta calcolata come abbiamo visto prima sia negativa quindi quindi abbiamo un valore di questo tipo l'energia totale la faccio come una retta orizzontale perché l'energia si conserva è la stessa dovunque ora osservate che se questa è l'energia totale allora in base alla relazione che abbiamo visto prima che è questa dato che l'energia totale è uguale a quella cinetica radiale più il potenziale efficace allora la riscrivo qui sotto l'energia totale è uguale a l'energia cinetica radiale più il potenziale efficace quindi l'energia cinetica radiale è l'energia totale meno u per cui il valore di se tolgo all'energia totale il valore dell'ordinata della curva rossa mi rimane l'energia cinetica quindi fatemi disegnare in azzurro questa parte è l'energia cinetica che per definizione deve essere maggiore o uguale a zero ma questo dove accade accade esclusivamente tra questi due valori di r tra questo e questo perché perché al di fuori di questa serie più grande di questo valore il potenziale è più grande dell'energia totale quindi questa grandezza è negativa quindi tutta questa zona da questo r in su e questa zona da questo r in giù è vietata perché in quella zona avrei un valore dell'energia cinetica negativo quindi la mia orbita cioè i valori della distanza tra sole e terra sono confinati tra questo che chiamiamo a felio è per ielio scusate e questo che chiamiamo a felio questa è la distanza minima r p per ielio è il valore minimo il pianeta non può avvicinarsi al sole più di questa distanza mentre questo è il valore massimo non può allontanarsi dal sole più di questa orbita ecco che in queste condizioni c'è quando l'energia totale è negativa l'orbita oscilla cioè orbita meglio il valore della distanza terra sole oscilla tra due valori uno minimo e uno massimo e l'orbita è un'ellisse ok attenzione nel caso particolare in cui l'energia totale sia diminuita in modo tale che sia tangente a questa curva fatemi a disegnare un'altra in non in blu ma in viola se l'energia totale fosse questa avrei un unico raggio chiamiamolo R0 quindi un unico R possibile ok in quel caso se R assume quel solo valore possibile legato al fatto legato al fatto che l'energia totale è tangente alla curva del grafico o l'orbita circolare e in quel caso è un valore costante per cui il caso semplice di orbita circolare corrisponde graficamente al caso in cui la retta che rappresenta l'energia totale è tangente a quella che rappresenta il potenziale efficace del moto radiale e tangenziale dell'orbita del pianeta all'interno dell'orbita solare dell'influenza dell'energia della trazione gravitazionale solare l'altro caso interessante il secondo caso è il caso in cui l'energia totale sia nulla prima abbiamo visto cosa succede se è negativa chiaramente se l'energia totale va sotto questo valore è minimo nessuna orbita è possibile perché non ci sono intersezioni tra l'energia totale e il grafico del potenziale per cui l'energia cinetica sarebbe ovunque negativa quindi quel tipo di orbita non esiste nel caso di energia nulla fatemi ridisegnare il grafico se no così evito di fare troppi pasticci abbiamo sempre il grafico del potenziale efficace che questo se ho un'energia totale nulla quindi tot è uguale a zero quindi questo coincide con l'asse dei raggi cosa succede beh questo è il raggio minimo perché vi ricordo che il corpo celeste può orbitare attorno al sole in tutti i punti in cui il potenziale efficace è inferiore all'energia totale cioè l'energia totale meno il potenziale efficace deve essere sempre maggiore o uguale a zero e questo succede in tutta questa zona quella a destra di R minimo fino a infinita perché in realtà non ci sono altre intersezioni tra il grafico dell'energia potenziale e l'asso orizzontale in questo caso l'orbita ha un solo vincolo R distanza pianeta sole deve essere maggiore o uguale a questo valore minimo ma questo succede nelle orbite paraboliche cioè l'orbita di questo corpo celeste attorno al sole è in realtà una parabola dove il sole è uno dei fuochi l'ho disegnata molto male e questo corrisponde è il valore minimo della distanza pianeta sole o corpo celeste sole e qui poi l'orbita continua ovviamente e come potete facilmente osservare dato che non è un'orbita chiusa non torna indietro questa è l'orbita dei satelliti o delle comete non periodiche quelle che passano una sola volta nella zona occupata dal sistema solare questo tipo di orbite appunto è individuata dal fatto che l'energia totale del sistema sole più corpo celeste è nulla in questo caso si dice che il sistema si parla di sistema slegato perché? perché la distanza tra i due oggetti che formano il sistema sole e corpo celeste può raggiungere distanze infinite cioè R può raggiungere valori arbitrariamente grandi mentre nel caso precedente visto che R era confinato tra un valore minimo e un valore massimo qui parliamo di sistema legato il sistema legato è un sistema in cui i componenti del sistema non possono separarsi più che tanto cioè possono separarsi ma raggiungono una distanza massima oltre la quale non possono andare nei sistemi legati le orbite dei satelliti dei pianeti che formano il nostro sistema sono orbite ellittiche il primo sistema legato che abbiamo visto è quello che stiamo considerando adesso in cui le orbite sono paraboliche otteniamo come è facile immaginarlo un sistema legato anche nel caso in cui l'energia totale sia maggiore di zero abbiamo visto il caso di energia negativa energia nulla se l'energia è maggiore di zero a maggior ragione succede quanto appena visto che i sistemi con orbite paraboliche qui ho r qui ho l'energia efficace il grafico è quello che avevamo tracciato prima lo ripeto in questo caso il grafico dell'energia totale ha una retta orizzontale sopra l'asse degli r questa è l'energia totale qui attenzione anche ho un raggio minimo corrisponde a questo r minimo quella è la minima distanza tra pianeta e corpo celeste ma anche qui r può raggiungere distanze o valori infinitamente grandi dato che non c'è più c'è una sola intersezione con il grafico dell'energia totale e quindi questo corpo può allontanarsi indefinitamente dal sole in questo caso quindi nel caso di oggetti che hanno un'energia totale in relazione alla forza gravitazionale col sole maggiore di zero ho comunque un sistema slegato e le orbite che ottengo sono delle iperboli quindi qui c'è il sole l'orbite iperboli che è grosso modo un orbite di questo tipo non è non è non è spostare non è questo del sole deve essere nel fuoco quindi più o meno qui anche in questo caso parlo di sistema slegato perché lungo quest'orbita il pianeta del corpo celeste può allontanarsi indefinitamente dal sole quindi riassumendo l'energia totale cinetica più potenziale del nostro sistema in questo caso un sistema semplificato formato da due corpi sole o stella e pianeta distingue tre grosse famiglie di orbite ok se l'energia totale è negativa l'orbita è un'ellisse la distanza terra sole pianeta è vincolata a due valori un massimo e un minimo e il sistema è legato se l'energia totale è nulla o un'orbita iper parabolica quindi una parabola con la distanza sole corpo celeste che è confinata a essere maggiore di un valore minimo e parlo di sistema anche in questo caso sul legato anzi questo lo facciamo una volta per tutte dopo se l'energia totale è positiva l'orbita è un iperbole dove anche la distanza sole e il corpo celeste è vincolata a essere maggiore di un valore minimo e in tutti questi due casi parlo di sistema slegato cioè che non è confinato a rimanere vincolato dentro una ben precisa e limitata porzione dello spazio ok quindi riassumendo abbiamo che la forma della forza di gravitazione universale questo particolare tipo di espressione matematica fa sì che le traiettorie dei corpi celesti le traiettorie dei pianeti siano delle coniche traiettorie orbite o traiettorie meglio cioè sono della famiglia delle coniche quindi possono essere parabole circonferenze ellissi e iperbole iperboli che cosa distingue quale tipo di conica è l'energia associata al sistema in particolare quindi l'energia negativa o ellissi o circonferenze nel caso specifico nel caso particolare di ellisse se l'energia è nulla di nuovo o parabole se l'energia è positiva l'energia totale mi raccomando ho delle iperboli ok ok e quindi questo è un criterio essenziale per individuare il il tipo di traiettoria che un corpo celeste segue una volta che uno conosce la distanza del sole e la rapidità con cui si muove si può calcolare l'energia totale e questa ci permette di distinguere tutti i corpi che sono per esempio come le comete periodiche le comete come quella di Alley la comete di Alley siccome torna periodicamente sulla terra cioè sulla terra nel sistema solare ha un'energia sicuramente negativa e la sua traiettoria è un'elisse anche se un'elisse molto schiacciata in cui cose del tipo ecco qui c'è il sole c'è una cosa di questo tipo qui con un periodo di circa 80 anni se non sbaglio ok tutto nella parte più eterna dell'orbito non la vediamo la vediamo solo quando è vicino al sole ma comunque è un'energia negativa quindi è un sistema legato a meno che non acquisisca energia per un qualche altro fenomeno celeste magari una collisione con un altro corpo celeste la comete di Alley tornerà ogni 80 anni circa a fare la sua visita al sole invece tutti gli oggetti che hanno energia maggiore o uguale a zero sono sistemi slegati quindi a meno che non perdano energia per qualche altro fenomeno qualche altro processo la loro orbita è un'orbita che non è vincolata a una limitata porzione di spazio attorno al sole quindi raggiunge distanze infinite dal sole per cui questo tipo di corpi celesti che ci sono e vengono in ruota girano attorno al sole passano attorno all'orbita del sole ma non ritorno più quindi vengono da distanze infinite passano attorno al sole e poi ritornano dove sono in altre direzioni del cosmo senza più tornare indietro ripeto a meno che non cambino le loro condizioni a meno che non perdano l'energia per qualche altro motivo qualche altro processo ok e il e questo è per chiarire la relazione che c'è tra il tipo di orbita quindi non tutti i corpi celesti seguono orbite elliptiche dipende dal tipo di energia e il il legame che c'è tra l'energia il tipo di iconica che descrive l'orbita e l'energia totale del sistema pianeta o corpo celeste e sole un'altra cosa importante è per concludere questa discussione e questa però la vedremo un pochino in dettaglio nella prossima lezione come immaginate che ritorniamo alla situazione di prima ecco come immaginate di avere un sistema come la terra con un satellite che gira attorno alla terra in un'orbita circolare quindi la sua energia quindi la sua energia è questa il satellite o comunque il corpo orbitante può liberarsi della trazione gravitazionale terrestre se acquisisce abbastanza energia per avere raggiunto un valore nullo dell'energia totale mi spiego meglio se ho un satellite che gira attorno alla terra nell'orbita a raggio postante quindi circolare vuol dire che la sua energia totale è negativa altrimenti l'area non sarebbe costante se questo satellite accendendo dei motori o facendo comunque aumentare la sua energia cinetica riesce a far sì che la sua energia totale diventi nulla allora in questo caso vedete che riesce a liberarsi dalla trazione gravitazionale terrestre diventa passa dal sistema legato al sistema slegato e quindi si dice che raggiunge in quel caso la velocità di fuga però questa la vedremo la prossima volta l'ultima cosa che voglio sottolineare e raccontarvi oggi è la seguente abbiamo visto che se abbiamo nota bene ecco se abbiamo un sistema tipo il sole e la terra ok la forza di attrazione gravitazionale tra sole e terra all'espressione che abbiamo visto ormai diverse volte che è questa meno g massa della terra massa del sole r al quadrato lungo la direzione di r e questo fa sì che l'orbita della terra sia una conica l'orbita comunque del pianeta sia appartenga a una famiglia di curve ma più in generale se avessi per esempio se vivessimo in un piano in un sistema diverso immaginate di avere un sistema questo nel cosmo è abbastanza comune di avere due soli due stelle i sistemi stellari multipli sono molto comuni il 50% dei sistemi stellari sono multipli e noi fossimo un pianeta che si trova in questa posizione per esempio allora la forza gravitazionale dovuta al nostro sistema sarebbe dovuta a due forze cioè la risultante delle due alterazioni gravitazionali verso il primo piano la prima stella F1 e verso la seconda in questo caso che cosa succederebbe? cioè potremmo ancora osservare le leggi di Ceplero varrebbero ancora l'orbita del pianeta sarebbe ancora un ellis una conica ok questa è una domanda che lascio in sospeso e che affronteremo in una delle lezioni prossime se non ci sono domande per oggi ci fermiamo qui grazie dell'attenzione grazie grazie grazie